Con Mario Martino e Raffaele Tulimieri parliamo di un grande evento al liceo scientifico di Padula perché a quanto pare questo istituto è il primo nel sud Italia ad aver aggiunto un grandissimo successo. Di che cosa si tratta? Sì, il nostro liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula ha partecipato ad un concorso in lingua inglese che è stato organizzato da un'università americana con sede a Roma che è la John Cabot University. Il progetto si chiama Italy Reads e noi abbiamo dovuto leggere un'opera teatrale americana di Tennessee Williams e abbiamo dovuto dare una nostra interpretazione dell'opera attraverso un cortometraggio. E questo vi è ovviamente il risultato tra i migliori? Sì, infatti adesso siamo in finale, siamo stati contattati e giovedì 23 saremo proprio presenti a Roma per la premiazione. Se Mario Martino è il regista, Raffaele invece Tulimieri è l'attore protagonista. Allora, parlaci un poco di questo tuo ruolo. Sì, l'idea è nata quindi grazie a quello che è stato un primo incontro che abbiamo avuto stesso all'università il mese di novembre e in seguito a ciò, in seguito anche all'incontro che abbiamo avuto, quindi i dettagli che ci sono stati dati, abbiamo cercato di realizzare questo video che in un certo senso esprimesse quelli che sono i temi fondamentali di quella che era l'opera. Ci siamo concentrati su quello che è uno dei personaggi fondamentali dell'opera, il cui nome è Tom, e in un certo senso il mio personaggio, quello che ho cercato di rappresentare, era una sua visione in quella che è la realtà moderna, quindi la realtà di tutti i giorni. Molto importante è quella che è la caratterizzazione di un personaggio, poi è difficile attraverso un corto trasmettere quelle che sono le emozioni e i sentimenti e se siamo arrivati tra i finalisti penso che l'abbiamo fatto bene. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio anche e soprattutto il mio regista. Anche perché il vostro staff è composto da dieci persone. Sì, è composto da dieci persone, quindi ognuno ha fatto quello che è il suo lavoro e siamo molto contenti di questo perché anche per la prima volta siamo trovati a fare qualcosa del genere, visto che principalmente io mi occupo di teatro e non di cinema o di video. Mentre invece tu da regista hai dovuto così, possiamo dire, rigugire e coordinare tutto il lavoro fatto. Sì, io ho preso le idee che poi tutto il gruppo mi ha fornito, ho cercato di dare il meglio, abbiamo girato alla Certosa, abbiamo girato anche nel tempo di neve che c'è stato. Per fortuna è uscito fuori un buon lavoro, un video muto, però comunque è un ottimo risultato che abbiamo raggiunto. La vostra opera dove è visibile? È visibile direttamente su YouTube, che è uno dei social network più importanti dove possiamo trovare tutti i video che vogliamo. Quindi il nome del video è Chainit Italy Reads e digitate Chainit e lo troverete. Quindi buona visione, spero che vi piaccia.